Musica Numeri in crescita nelle ultime settimane, ma al momento nessuna ricaduta sui ricoveri ospedalieri. E' l'analisi del governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel consueto aggiornamento del venerdì, che si mostra tuttavia preoccupato, guardando i prossimi mesi. Il Presidente fa il punto della situazione sui contagi e sull'andamento della campagna vaccinale. Siamo di fronte ad una tendenza lenta, ma percepibile, all'aumento dei contagi. Grazie a Dio, siccome abbiamo un numero altissimo di vaccinati, questo aumento di contagi non ha una ricaduta immediata sui ricoveri ospedalieri. E tuttavia è un dato che deve cominciare a preoccuparci. 4,40% delle persone in cui si fanno i tamponi che è positivo. Sul fronte della scuola, dopo il focolaio registrato in un istituto di Qualiano, De Luca sottolinea il rischio di veder crescere il contagio e di arrivare ad una nuova chiusura delle scuole. Se rimangono centinaia di persone non vaccinate, se nelle famiglie abbiamo genitori non vaccinati, che contagiano i propri bambini, che a loro volta contagiano i compagni di scuola, è chiaro che noi rischiamo di veder crescere il contagio. E da qui a uno o due mesi rischiamo di essere costretti a richiudere le scuole. Io rivolgo un invito a tutti e a tutte perché oggi ci si attivi per impedire che siano chiuse le scuole. Cioè che ci si attivi per persuadere chi non si è vaccinato a vaccinarsi. La situazione attuale è un po' questa, voglio adoperare, come dire, un'immagine fisica. È come se noi avessimo lavorato in questo anno e mezzo per tenere chiusa la porta e non far entrare il virus. Il fatto che non tutti abbiano accettato i vaccinarsi significa che quella porta, anziché tenerla chiusa, la teniamo socchiusa. La teniamo socchiusa e consentiamo al virus di entrare nella nostra comunità. Quella porta deve essere chiusa se vogliamo stare tranquilli nel periodo invernale. Se qualcuno decide di abbassare la maniglia e tenere socchiusa la porta, beh, questo qualcuno rischia di determinare un danno immenso.